Pavo Guyane partente e vincente di questo debutto vittorioso del Parma in Coppa Campioni, come ti senti? Dici un po' le tue sensazioni e se avevi un po' di agitazione per il debutto. abbiamo fatto una vittoria sempre importante nei tornei così forti dove si gioca 5 giorni passi, la squadra ha agito bene anche in attacco e adesso si sente pronto e ammigliamo se riusciamo a arrivare a sabato e vediamo qui in attacco. Da un punto di vista del campo come ti sei trovato? Un monte un po' particolare con sabbia e sintetico ha avuto problemi o pura no? Il monte è un monte con l'infiltro di grama sintetica e il monte è un monte di arena come ti senti se si tenia qualcosa di diverso il terreno mi parecio super bene, in tremendas condizioni, ho avuto in una situazione in terreno sintetico il terreno è super buono, il clima è ideale per lanciare e per una vittoria di quando non questo è un'allia lanchato contro su l'erba sintetica con un monte a due bene e due bene andiamo avanti così Fabio noi ti ringraziamo, complimenti e continuiamo così Grazie, grazie Ovviamente ringraziamo anche il nostro traduttore Salve Salve Salve